Sono Giuseppe Viscardi, sono il candidato sindaco della coalizione formata da Gente Comune, che è la mia associazione, e dal MIL, Movimento Indipendentista Lino. Noi abbiamo firmato, io ho firmato l'impegno per l'acqua pubblica, intanto per un motivo che è alla base di tutti gli altri, vale a dire esiste una precisa volontà popolare espressa tramite referendum che va in questa direzione. A monte e a valle del fatto che si possa essere d'accordo o no nel merito, da un punto di vista della forma e del metodo, e quindi del rispetto del diritto sostanziale, è secondo me obbligatorio, è secondo me indispensabile, è necessario firmare questo impegno, perché così ha voluto la volontà popolare. Attenzione, perché siamo in un momento nel quale in generale, e questo in particolare, si cerca di galoppare sopra la volontà popolare, e troppo spesso è successo in questi anni. Per esempio disattendendo l'esito di molti referendum, faccio i casi della responsabilità civile dei magistrati, secondo me è una cosa di grandissima civiltà, tantissime categorie professionali pagano il fio dei loro errori, non si sa perché questa casta intoccabile continua ad andare esente nonostante un referendum nell'87 si fosse espresso in questa direzione, e questo è uno, ma potremmo anche citarne altri, potremmo citare quello sul finanziamento pubblico dei partiti, che più volte è uscito dalla porta e più volte è rientrato dalla finestra, e questo secondo me è il motivo che sta alla base di tutti gli altri. Poi possiamo anche parlare di merito, io credo che con famiglie che fanno fatica a pagare la bolletta dell'acqua o di altre utenze sia assolutamente contrario alla logica, contrario anche alla socialità, il fatto di considerare l'acqua comunque un bene in economia, a pagamento. Io tutto sommato sono liberale come impostazione, ma non concepisco che determinati servizi, infatti i vecchi liberali penso a Spaventa nell'Ottocento, erano assolutamente di questo avviso, credo che certi servizi debbano continuare a essere gestiti direttamente dall'organismo comunale, sicuramente tra questi l'acqua e potremmo poi anche continuare, però fermiamoci qua perché su questo credo che ci sarebbe già tanto da dire e c'è tanto da dire e il fatto di essere qua credo che sia già un messaggio chiaro.